Buongiorno, buonasera, Maurizio Lupi, leader di Noi Moderati, che ci ha raggiunto nel frattempo in studio su questa cosa terribile. Secondo lei il governo sta facendo abbastanza per cercare di liberarla? Intanto buon pomeriggio e devo dire che anche a me l'ultima immagine ti dà da pensare. E ha ragione Veltroni che ho sentito prima su alcune grandi questioni. Quindi non dovrebbero esserci divisioni, dovrebbe esserci un'unione di giudizio e di sentimento. Se siamo garantisti non lo siamo a correnti alternate a seconda della parte politica o del paese in cui un cittadino, tra l'altro un cittadino italiano, ancora oggi è messo in catene. Il processo ci sarà, si vedrà, ma credo che noi quelle immagini, a me hanno ricordato altre immagini della storia di questo paese che avevano indignato me giovane quando vedi dei personaggi politici, a me appassionava la politica. Enzo Carra, democrazia cristiana, con le manette ai polsi e la rivolta di tutti. Ecco, io credo che dobbiamo su questo lavorare tutti insieme. Il governo sta facendo la sua parte. Forse alzare troppo i toni da un punto di vista della politicizzazione anche nello scontro e della divisione non aiuta nella risoluzione di queste grandi questioni. L'abbiamo visto anche in altri casi internazionali, l'è seguita tante volte, no? Si ricordi l'India, i nostri marinai, eccetera. Sì, stavo pensando una cosa, ma non è che il fatto che ci sia di mezzo, lei lo accennava, un paese che ha comunque dei rapporti di alleanza o di vicinanza con un pezzo del nostro governo renda tutti un po' più timidi, oppure no? Non lo so, credo di no. Visto il ministro Tajani si è mosso, si è mosso con molta serietà e responsabilità. Credo che ci sia la giusta indipendenza della magistratura in ogni nazione. La vogliamo nel nostro paese, credo che valga la stessa cosa negli altri. Però si può fare tanto, si può fare molto, è un paese nell'Unione Europea, si può lavorare in questa direzione, ma bisogna abbassare i toni, perché se sulla dignità di una persona e sul destino di una ragazza si aggiunge invece lo scontro politico interno o la situazione europea, ne parleremo, è una situazione complessa, delicata, le sfide che avremo il 9 giugno sono sfide epocali per il nostro paese, ma anche per l'intera Europa, credo che alla fine le spese le fa sempre la persona. Andiamo lì per un istante, elezioni europee, lei è il leader di noi moderati ed è il leader di una forza di centro moderata, lo dice il nome della vostra formazione, che qualche conto lo deve fare in vista delle europee. Io dicevo, prima preparando la trasmissione con gli altri di redazione, dicevo, no, perché non potendo superare il 4, mi hanno detto, è maleducato dire che non possono superare il 4, allora torno indietro di un passo... È politicamente non corretto, ma siccome noi non siamo politicamente non corretti, però insomma, il tema di quel 4 lì c'è in mezzo al tavolo. No, potrei risponderle che la prima volta che abbiamo fatto una scelta, io e Angelino Alfano, il nuovo centrodestra nel 2014, siamo candidati all'elezione europea con questo giovane partito, che era la stessa, che poi è la tradizione, la stessa sfida che vogliamo avere in tutti, anche oggi, eccetera, abbiamo preso il 4,2%, ma credo che il problema non sia questo, cioè che se gli accordi, l'ho già vissuto tante volte sulla mia pelle da leader appunto di noi moderati, li facciamo per la somma dei voti o per l'esito delle elezioni, non si va da nessuna parte. Se lavoriamo insieme capendo qual è il contributo e la sfida politica che noi vogliamo portare in un momento come questo, noi moderati è la quarta anima del centrodestra, insieme a Forza Italia rappresenta quel centro del centrodestra che è importante, allora forse può nascere una proposta alle prossime elezioni politiche europee importante. Che tradotto vuol dire state facendo un accordo? Che tradotto è che noi stiamo in diruttura d'arrivo, abbiamo discusso con Tagliani e abbiamo lavorato molto in queste settimane, per fare una lista comune. Diruttura d'arrivo vuol dire lo fate, sto accordo o non lo fate? Martedì lo comunicheremo, quindi vedremo, mancano qualche piccolo... La consideriamo una pre-comunicazione. Manca qualche piccolo dettaglio, non indifferente, stiamo lavorando appunto sul simbolo, perché ci deve essere chiaro che noi moderati non si scioglie in Forza Italia, ma Forza Italia e noi moderati sotto la proposta politica del Partito Popolare Europeo, che è una sfida importante, una sfida importante per le tante sfide che prima avete parlato e ha fatto bene a citare la solidarietà al Ministro Speranza, perché io credo che la memoria sia breve. Parliamo di Europa, ma le prossime elezioni europee non ci danno un'Europa del 2019, ci danno un'altra Europa. Ci siamo accorti che non ci si salva da sole. Sul Covid, che chi sapeva affrontare quel nemico sconosciuto, può aver fatto bene o male il Ministro Speranza, ma ha messo la propria faccia, ha giocato la propria responsabilità. E anche questa idea che adesso i vaccini... E se non c'erano i vaccini dove andavamo? E scusate, se non c'era l'Europa, che per la prima volta si è accorto che da soli non ci si salva e che ha messo a disposizione una cosa unica, il debito pubblico insieme. Adesso parliamo di PNRR, ma quel debito chi l'ha fatto? L'Italia o l'hanno fatto tutti i paesi in Europa per la prima volta dicendo che dovevamo salvarci insieme? Ecco, questa è la sfida che abbiamo davanti. È la sfida della responsabilità, della concretezza, della serietà e anche del battersi con le nostre proposte e i nostri valori. Ecco, a proposito dell'Europa che sarà e quindi anche di qui la guiderà, voi pensate di sostenere direttamente la ricandidatura di Ursula von der Leyen che in queste ore viene messa un po' in discussione? O dove vi collocate? Ma il Partito Popolare Europeo ci siamo trovati a Bucharest e abbiamo designato appunto la von der Leyen come... Sì, però c'erano un po' di franchi tiratori che a mia memoria non è che portino benissimo. Beh sì, ci sono già state nella storia anche delle indicazioni del Partito Popolare Europeo. Io ricordo che il nostro candidato cinque anni fa era Weber, Max Weber, sì Max Weber, è un grande politologo ovviamente. No, ma era Weber e l'attuale... Manfred. Beber, l'attuale appunto Presidente del Partito Popolare Europeo e poi si scelse dopo le elezioni di andare su un candidato che potesse unire. Quello che non mi piace è la strumentalizzazione sulla Presidente von der Leyen. La strumentalizzazione anche da parte di qualche mio alleato. Perché non si può criticare la Presidente del Consiglio Melone perché ha dialogo con la von der Leyen. Con chi deve dialogare? Il Presidente del Consiglio, fondatore dell'Europa e oggi protagonista che vuole tornare ad essere protagonista in un'Europa che vogliamo cambiare. Se non con la von der Leyen. Ci sono grandi questioni che abbiamo davanti. La sfida che avremo davanti anche sulla transizione ecologica e digitale è una sfida geopolitica innanzitutto. Se noi non comprendiamo questo, noi non abbiamo capito cosa sta succedendo. perché dalle batterie al litio piuttosto che alla transizione ecologica noi dipendiamo dalle materie prime e dall'assemblaggio. Da chi? Dove ci spostiamo? Noi ne parliamo spesso. Facciamo i pannelli solari, ne avete parlato tante volte. Ne parliamo spesso da queste parti. L'assemblaggio dei pannelli solari dipende del 75% dalla Cina. Non è che dobbiamo essere contro la Cina ma dobbiamo capire che la sfida che abbiamo davanti è una sfida che mette e riporta al centro l'Europa. Poi sulla von der Leyen voglio dire ad oggi è la nostra candidata e quando un partito politico importante come il Partito Popolare Europeo la sceglie si va avanti nella direzione. Tra l'altro oggi ho visto che è iniziata la campagna elettorale tra l'altro era in Grecia proprio ad aprire con i nostri colleghi greci. Tornando alla politica italiana anche se ormai la politica europea dovrebbe essere data per scontato che è politica italiana però insomma a me ha fatto impressione nelle scorse settimane un sondaggio di Quorum per Demos che dice che il 37% degli italiani vorrebbe un partito cattolico. Ecco la vedo un po' dubbioso. Lei che dovrebbe puntare molto in quel caso su quel 37% le sembra che ci sia dentro un dato politico che ci sia qualcosa di realistico oppure no? Tra l'altro in quello stesso sondaggio lo devo anch'io con molto interesse diceva che il 67% dei cosiddetti elettori cattolici poi bisogna vedere queste classificazioni vota il centrodestra oggi rispetto all'altro. Io credo, guardi, sono molto giovane e quindi nel 1993... Comunque ottimista insomma. Lei sa che ovviamente noi siamo sempre giovani perché la vita e la realizzazione del sogno della gioinezza come diceva un grande papa fui l'ultimo candidato giovanissimo in Consiglio Comunale nella democrazia cristiana ma sono passati 31 anni e credo che la storia si dia il giudizio sugli strumenti. Quello che c'è bisogno oggi io credo ancora di più anche rispetto alle cose che voi ogni settimana ci raccontate ogni settimana dalla politica internazionale a quella italiana sia di una presenza viva nella società dei cattolici ma di tutti coloro che possono portare un contributo vero perché se la politica non ritorna ad essere l'espressione di una società viva secondo me è morta la politica ma è morta ovviamente la società. Poi io credo che ci sia bisogno noi moderati a questo tentativo di un partito che prende grandi questioni fondamentali le libertà, la dignità della persona la sussidiarietà e la solidarietà però le dialoga con tutti nel senso che queste battaglie non possono essere ghettizzate dai cattolici sono per una società migliore. Il marchio da solo non funziona. Ma io quelli che vogliono il ritorno dalla democrazia cristiana non è solamente tutti i déjà vu. Senta Lupi una questione credo per lei molto difficile da affrontare caso Santanchè questa settimana è stata respinta la mozione di sfiducia quando lei era ministra delle infrastrutture non era indagato e si dimise al di là della decisione in sé lei non teme che questo andarianda giudiziario a cui assisteremo comunque nelle prossime settimane nei prossimi mesi possa creare qualche problema al centro-destra verso le elezioni. Io credo che ed è per questo che ho votato convintamente come noi moderati contro la mozione di sfiducia che non sia un tema legato al processo alle indagini che sono in corso in un'indagine in corso uno non si dimette o non chiede la sfiducia di un ministro su questo. Credo che per me io parlo per la mia esperienza personale l'ho ricordato 2015 marzo 2015 quello che io valutai è la mia opportunità politica e umana nella mia idea di esercitare la responsabilità del ministro in quel momento se ero ancora libero di poter esercitare fino in fondo con la passione che ci devo mettere con la responsabilità che ci devo mettere l'esercizio di ministro mi dimisi anche rispetto ai miei valori cioè quando mi tirano in ballo la mia famiglia la mia dignità la mia visione di politica io faccio un passo indietro quindi se la si mette sulla questione politica ogni mozione di sfiducia è un rafforzamento lo dico come piccolo insegnamento all'opposizione è un rafforzamento della maggioranza poi credo che appartenga ognuno alla propria sensibilità alla propria decisione personale Senta io vorrei chiederle di rimanere ancora qualche istante con noi perché vorrei chiedere una mano a lei per capire se dobbiamo aspettarci un condono un salva casa o una pace edilizia quindi ci fermiamo qualche istante e poi cerchiamo di capire da Maurizio Lupi non me l'aspettavo questa domanda succede ci fermiamo un attimo Allora di nuovo qua in studio con Maurizio Lupi leader di Noi Moderati e ci eravamo lasciati su questo dilemma ci dobbiamo aspettare un condono sulla casa oppure un salva casa come l'ha definito il vicepremio ministro Salvini una pace edilizia la premiera Meloni ha detto che le norme non le aveva ancora lette lei ne sapeva niente ma nessuno di noi le ha lette le norme queste norme e poi appunto mai e poi mai ci saranno condoni io credo che la questione sia una questione poi magari ne parliamo più approfonditamente ma sia una questione assolutamente seria all'interno ho fatto l'assessore urbanistica del Comune di Milano e poi il ministro dell'infrastruttura e quindi se si tratta di sanare qualche piccola irregolarità questo si può fare ma in un contesto totalmente diverso condoni non ce ne possono essere poi in che senso un contesto diverso? io personalmente tra l'altro ci sono delle proposte in Senato progetti di regenerazione urbana la sfida è quella in una in una città come Milano ma come nelle grandi città semplificazioni sburocratizzazioni e poi intervenire anche sì ci sono termini tecnici è vero quello che ha detto anche oggi Salvini sulla doppia conforme cioè tu hai fatto un intervento regolare non hai chiesto l'autorizzazione perché magari il Comune te la dà dopo 16 anni e lo hai fatto lo stesso quell'intervento era regolare ed è regolare ma deve avere la conformità da parte dell'amministrazione comunale allora in quel caso semplifichiamo vedi quanto devi pagare avevi fatto un intervento regolare ma questo deve essere fatto in un contesto secondo me ci sono delle priorità tra l'altro dico anche il ministro Salvini molto più gravi Milano e tante città si stanno bloccando perché a proposito di interventi da una parte della magistratura e di azioni delle amministrazioni comunali quando la magistratura interviene sulla corruzione sui fatti illeciti è assolutamente fondamentale ma sull'interpretazione delle norme urbanistiche rischia di bloccare una città tra l'altro sull'idea di città più tardi avremo ospite Stefano Boeri parleremo di città mi sembra che sia la sfida per esempio demolizione e ricostruzione finalmente nel nostro paese come avviene negli altri è la sfida per non consumare il territorio vuol dire che però devi dare la possibilità di farlo subito velocemente pensate ai grandi quartieri popolari che sono stati costruiti negli anni 70 e che rischiano sempre di diventare i nostri ghetti lei si è letto la nostra trasmissione perché in realtà poi di questo cerchiamo di parlare ma fate bene grazie a Dio stare sulla notizia vuol dire stare in mezzo alla realtà no? credo anche in mezzo alla storia delle persone che vivono nei luoghi e che appunto di questo cercheremo di parlare con Boeri per capire che distanza c'è anche tra i grandi progetti le grandi visioni urbanistiche e quello che poi diventano nella vita delle persone siamo andati a fare un giro a Corviale abbastanza illuminante in questo senso Maurizio Lupi io la sto per salutare perché voglio far ascoltare questa intervista che abbiamo avuto il privilegio di riuscire a realizzare con Ehud Olmert Ehud Olmert è un grande politico israeliano è stato un protagonista della storia israeliana recente è una voce tra le più ascoltate e ci ha dato un'intervista nella quale dice delle cose importanti e siamo a sei mesi da quell'attacco correndo di Amasco contro Israele ma con in mezzo adesso decine di migliaia di morti Lunicef dice uccisi a Gaza 13.000 bambini cessare il fuoco ora guardi ho sentito anch'io l'anticipazione dell'intervista che mi sembra molto forte ma anche molto chiara tra l'altro che parte esattamente risponde alla questione e il dubbio che sempre abbiamo si può essere chiari precisi e netti su quello che sta accadendo senza avere il dubbio di essere accusati di essere nemici di Israele oppure dicendo con chiarezza che il rischio che esiste anche oggi è un ritorno all'antisemitismo abbiamo dei segnali drammatici tra i giovani ma non solo qui in Italia pensi alla protesta nelle università americane cose che io non ho mai visto e su cui noi sempre ci siamo anche rifiutati quando si parlava della Russia la cultura è l'espressione della dignità di un popolo è l'espressione di un popolo come eravamo contro al fatto che si eliminassero i libri di Dostoevsky solo perché era un autore russo pensare oggi che siccome c'è Israele loro li dobbiamo togliere dagli accordi universitari dei giovani ricercatori detto questo proprio da amici di Israele è per questo che mi ha colpito la forza di quel breve passaggio che ho sentito dell'intervista che facete sentire di Almer noi oggi dobbiamo avere il coraggio da amici di Israele di dire che così non può andare avanti che così anche la causa di Israele l'unico stato democratico in quel territorio ed è la ragione per cui drammaticamente a massa terroristi vogliono continuamente l'eliminazione da quell'area geografica di un segno dell'Occidente che è Israele rischia con questo atteggiamento di Netanyahu drammatico non si può mettersi le mani davanti agli occhi rispetto alla popolazione civile che viene uccisa ai bambini alla gente che sta morendo di fame e dall'altra però ha ragione cosa faremo dei 6 milioni di palestinesi noi da sempre come governo italiano abbiamo detto che due popoli e due nazioni ma vogliamo avere e cogliere l'opportunità drammatica che ci è colta oggi magari di svoltare nella storia in un'area fondamentale per l'Europa e per l'Italia io credo che avete fatto bene che in qualche modo Olmert ci racconta allora intanto grazie grazie dell'opportunità e del lavoro che fate andiamo a grazie a tutti